Salve ragazzi, eccoci per una nuova video lezione e continuiamo il nostro percorso sulle fibre tessili. Oggi parliamo del lino. Lino, fibra di origine naturale vegetale, si ricava da una pianta annuale. Importante, la coltivazione può essere fatta per ottenere la fibra e allora parliamo di varietà d'attiglio oppure per ricavare il seme e allora parliamo di varietà d'olio. Il lino d'attiglio, cioè quella per ottenere la fibra, ha uno stello alto e poco ramificato e si raccoglie quando il fusto ingiallisce, ma il seme non è ancora maturo. Mentre invece per quanto riguarda il lino d'asseme è molto più basso e la raccolta avviene soltanto quando il seme è completamente maturo. Il seme trova applicazione nel campo della cosmesi e della medicina naturale, attraverso dei cotti, infusi, eccetera. Una particolarità della fibra del lino, l'abbiamo già detto, si ricava dal gambo, ha una lunghezza di circa 70 cm e contiene il 70% di cellulosa. Cosa possiamo dire su questo discorso del 70% della cellulosa? Come vedete qui nell'immagine riportata a destra, vedete bene che la fibra del lino è racchiusa dalla corteccia del gambo e dall'altra parte è tutta intorno alla parte legnosa, sempre del gambo. E conseguentemente l'operazione di ottenimento della fibra non è così semplice come quella del legno. e l'andiamo adesso ad analizzare. Il processo parte naturalmente con la semina che è tra marzo e aprile. Il lino ha crescita veloce e in circa tre mesi è pronto con la fioritura. Raggiunta la fioritura e prima che naturalmente il seme maturi, il lino viene esterpato. L'operazione di esterpazione avviene a macchina e il lino viene lasciato, steso nel campo affinché si abbia quell'operazione chiamata di macerazione. La rugiada della notte o la stessa pioggia ne caratterizza e ne macera il gambo. La stessa macerazione noi la possiamo ottenere anche in modo artificiale in acqua stagnante. Importante però in tutti e due casi, prima di poter proseguire nella lavorazione, è l'asciugatura degli steli e la possibilità di bloccare il processo di fermentazione che ci permette naturalmente la decomposizione della parte esterna dello stelo. A questo punto, una volta essiccati, i gambi devono essere battuti. Lo strumento con cui avviene la battitura è la gramola e qui ne vedete un'immagine tratta naturalmente da un'attività del secolo scorso. Le parti legnosi comunque vengono eliminate attraverso l'opera di maciullazione delle stesse fibre e la frantumazione delle parti legnose poi viene rimossa dalle fibre stesse. Si ottiene così il lino grezzo che deve essere poi sottoposto a una dettinatura per dividere le fibre lunghe che diventeranno filato da quelle corte che poi costituiranno la parte detta stoppa. Impieghi del lino Fino noto dall'antichità, gli egiziani già nel quinto millennio lo utilizzavano una particolarità, lo utilizzavano anche per la realizzazione delle bende nelle mummificazioni continua oggi ad essere un tessuto di grande pregio e trova molteplici e usi sia nell'abbigliamento estivo per la sua particolare sensazione di fresco sia nella biancheria da letto che da bagno che da cucina anche nell'arredamento come tessuti per tende, cucine e rivestimenti di divani poltrone e tappeti a razzi. Alcune proprietà del lino l'elevata microscopicità è un ottimo conduttore di calore e da qui nasce la sua freschezza che dà ad estate brucia facilmente, è sempre un vegetale e ha un colore che varia dal bianco al grigio fino al rossigio ha una bassissima elasticità e tra l'altro questa bassissima elasticità ne causa quella che è la sgualcitura quando un abito di lino viene indossato ha un'ottima resistenza a trazione anche bagnato una buona attitudine alla filatura e si presta alla tintura Bene, e direi che con questo abbiamo raccontato che cos'è il lino e adesso la palla passa a voi qui le domande a cui dovete rispondere e naturalmente vi saluto e vi aspetto per la prossima